Ciao bambine meravigliose, ciao! Volevo farvi fare un ballettino, dove io ve lo faccio prima vedere e poi dopo ve lo spiego. Per fare questo ballettino con la fede bisogna avere un cuscino, scegliete voi quello che volete, io ho scelto blu, perché sia abbastanza grosso, vedrete? Così, ok, vi faccio vedere il balletto e poi dopo ve lo spiego un pezzo dopo l'altro, partiamo con le manine sui bordi, ok? Grazie a tutti! Vi spiego questo piccolo esercizietto, ok? Ci prendiamo il nostro bellissimo cuscino, lo abbiamo tra le mani, quindi io sono a specchio rispetto a voi, come quando giochiamo allo specchio, ok? Le manine fanno uno e due e poi ritornano sui bordi, e uno e due e ritornano sui bordi. Poi questo cuscino quadrato lo facciamo uno, due, tre, quattro, ritorno in centro, ruotare la testa, fa da destra, uno, due, tre, quattro, e poi ritorno. Quindi impazziscio prima il cuscino e poi la mia testa. Lo tengo, come se facessi tre molleggi in avanti con la gabbina a destra, questa qua che avete rispetto a me, facciamo molleggio, molleggio, molleggio e torno indietro. E guardo e ritorno con la manina, io riprendo il cuscino e rifaccio con l'altra gabbina, molleggio, 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 piego tutte e due le gambe, torno indietro, sposto la manina dietro e ritorno, ok? Mettiamo la musica, quindi facciamo questo pezzettino, ok? E uno, due, e tre, quattro, e uno, due, e tre, quattro, e tac, 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 e testa, tac, 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 centro, uh, gabbina a destra, molleggio, piego le due gambe come se fosse una principessa e ritorno. Il vostro braccio destro va dietro e ritorna qua, e gabbina a sinistra, due, tre, ritorno indietro, e va a cercare la schiena, e ritorno indietro, ok? Dai, che cosa c'è adesso? I saltini, e quattro, tre, due, e ritorno a una, due mani, mi nascondo dietro la cuscina, e ritorno, e sono di nuovo, da capo velocissime fino a qui, ok? Via, e uno, due, e tre, e quattro, e uno, e due, e tre, e quattro, e quattro del cuscino che va, torno, e quattro della testa che va, e molleggino, e uno, e due, e tre, e braccio destro, ritorno, molleggino a sinistra, uno, due, tre, ritorno, fate come me, ok? Uno, alza, tiri, po', po', tre, e ritorno, mi nascondo, chiedo, mi porto lontano, e torno su, ok? Da qua, oscilla il cuscino, e giro, giro, vado, e vado, e torno, e giro, giro, vado, lo riporto davanti, alla gola, ok? Ok? Ma dopo che ha fatto questo giro sul piano frontale, mi facciamo fare un giro tutto intorno, e uno, vado, due, vado, tre, vado, quattro, e ci faccio la nana sopra, ancora una volta, con me, ok? E, oscilliamo, via, e uno, due, giro, e torno, e uno, due, vado, e torno, lo recupero, ma gira intorno a me, e io ci faccio sopra la nana, e mi piego, come se fosse un piatto di patatine fritte, allungo, e cado dall'altra parte. Ancora una volta, vediamo queste, sono là che faccio la nana, e lo porto, e cado dall'altra parte, attenzione che le ginocchia sono sempre molto piegate, allora inizio, e per finire, faccio un passino indietro, mi butto giù, e cado a fare la nana sul cuscino, e rimango lì a fare la nana sul cuscino, ok? Lo rifacciamo ancora una volta, che ne pensate? Sì? Io lo faccio insieme a voi, un po' lento, e poi un pochino più veloce, va bene? D'accordo? Dai, io ci sono, e voi? Guardate che qui, spiuti i vostri video, io vi voglio vedere, mi dovete mandare il video, ok? Pronti? Via, e uno, e, ah, ah, uno, e, ah, ah, quattro, tre, due, e, sto, testa, 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 cento, molluccino, 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 torno, e, molluccino, 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 torno, braccio, e, saltelli, e, un, due, tre, e vai, lontano al cuscino, mi nascondo dietro, e torno su, lo prendo solo con una mano, vado a destra, uno, torno, come un'altalena, e dall'altra, a sinistra, boom, e, sha, recupero, ma giri intorno a me, come se fosse una giosta, nanna, e su, e giù, e raddrizzo, prendo, mi butto giù, e faccio la nanna, ok? Ultima volta, molto più veloce, sì? Ci siamo, d'accordo? vai, pronti, e, ecco, la velocità parte, 5, 6, 7, e, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e, 4, 3, 2, 1, e, testa, 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 e a volto a cuscino, molluccino, e vai, 1, 2, 3, torno, vai, e, guardo, e ritorno, l'altra gambina, molleggio, 1, 2, 3, e ritorno, e, guardo, e ritorno, e, 1, 2, 3, e mi nascondo dietro, e mi torno, e vai in altalena, 2, grande giro del cuscino, e dall'altra, una, la mano, grande giro del cuscino, e da qua, giri tutto intorno, cambia mano, nanna, e l'abrizzo, nanna, e vai, ginocchio, e, come una principessa, faccio la nanna, ragazze, è stato benissimo, spero di volarvi presto, e spero di volare insieme a voi, e spero tutto quello che possiamo immaginare, e vi mando un bacio enorme, grandissimo, grandissimo, ciao!